il signor a sinistra sulla porta avanti, il signor a mia destra si pensa avanti il signor sistenzista, eccolo, eccolo, posizione da batter, vai ecco il nostro amico, non senta, senta allievo, eccolo, il signor ha preso il capellone il nostro amico sta facendo giù, signori e signori, si stanno facendo sotto le salle attenzione al peso del capellone